Si fingevano sordomuti per spillare offerte. In tre si erano radunati davanti al supermercato a Veggiano cercando di fermare i passanti con la scusa di raccogliere fondi per un'associazione. I carabinieri di Mestrino li hanno avvicinati ed oltre ad aver appurato che i sordomuti non erano affatto, hanno anche notato che l'associazione non esisteva e che nel raccogliere fondi non rilasciavano nemmeno una ricevuta. I tre provenienti dalla Romania sono stati denunciati per truffa in concorso, hanno 20, 30 e 39 anni, sono in Italia senza fissa dimora. Prima di essere fermati erano riusciti a farsi consegnare 20 euro da un ragazzo. Ulteriori accertamenti hanno permesso ai militari di appurare che erano gli stessi che avevano spillato altri 50 euro ad un anziano nel parcheggio di un altro supermercato della zona.